All'Aquila non si parla d'altro ormai che della presenza del super boss Matteo Messina De Naro nel carcere aquilano. A raccontare le sue giornate sul centro, il giornalista Giustino Parisse. Messina De Naro, come si sa all'interno del carcere, si sottopone a cure oncologiche, non può uscire. Lì è stata allestita una sala medica per le cure. Una cella di circa 4 metri lo ospita, con un letto ancorato al pavimento, un tavolo che si apre e chiude, un lavandino con acqua calda e una doccia non interna. Parisse sul centro racconta la giornata tipo del boss, sveglia alle 8, barba con un rasoio che poi deve restituire, il letto rifatto da solo, niente colazione ma solo caffè, intorno alle 10 con un piccolo fornello che restituisce subito. Alle 12 il pranzo, spaghetti al tonno, bastoncini di pesce e insalata, a cena minestra da bere solo acqua. Nel pomeriggio l'ora d'aria, ma da solo, può incontrare soltanto il suo avvocato, che è peraltro la nipote, che gli porta vestiti di ricambio. Qualche nota sull'abbigliamento, indossa sempre una tuta, ma non lascia mai il suo montone, quello divenuto celebre nel momento dell'arresto. Può guardare la tv, che si spegne a mezzanotte, ma solo canali nazionali, e a quanto pare si rivolge a tutti con cortesia, parla del cancro e delle cure, mai della sua vita da boss. La sua cella viene sorvegliata da due agenti, uno lo guarda a vista, uno lo controlla da un monitor. La descrizione che ne fanno è proprio questa, cioè di un detenuto che sta al suo posto, che dà del lei a chi incontra, naturalmente chi incontra parliamo soprattutto di medici e di agenti di polizia penitenziaria, è sempre molto cortese. Gli piace anche parlare del più o del meno, certamente non dei suoi fatti giudiziari, e da quello che ho capito lui tiene molto a essere curato bene. Questa è una cosa che non è nuovissima, è uscita sin dall'inizio, si informa anche sulle nuove tecniche di cura della sua malattia. Ecco, se ne è parlato tanto, c'è stata un po' di polemica su questa cosa delle cure, in realtà tutta questa stanza super attrezzata, lei l'ha un po' smentita, sconfessata? Ma non è smentita, cioè da quello che ho saputo io, poi sai, io naturalmente mi baso su testimonianze di chi più o meno sa come funzionano le cose, da quello che ho capito, hanno attrezzato una cella, che quindi non ospita un detenuto, con un lettino, con tutto quello che serve per fare la chemioterapia, quindi flebbo, una pompa siringa, insomma queste cose che chi sa come funziona può capirlo, e quindi niente, poi fa la sua seduta, naturalmente c'è la presenza dell'oncologo, c'è la presenza di un reanimatore, di personale naturalmente del carcere, e hanno fatto questa scelta proprio per non portarlo all'ospedale San Salvatore, cosa che per esempio per altri detenuti al 41 bis ogni tanto fanno, anche per cure oncologiche, per lui hanno scelto di non farlo.